Ehi, che aspetti? Corri a scaricare la nostra app, è gratis, ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. Ehi, salve a tutti e ben ritrovati, questo è un nuovo appuntamento con Apple Zaino, sono qui per presentarvi l'hack per Pokémon GO. Molti di voi sapranno che ovviamente ci sono dei trucchi per bypassare il fatto di poter camminare anche non a piedi ma ovviamente anche fisicamente tramite un joystick all'interno dell'applicazione stessa. Ci sono vari trucchi che ci svelano dove sono posizionati Pokémon ma io devo iniziare subito. Allora ragazzi, per prima cosa vi dico subito che non dovrete utilizzare il vostro account reale di Pokémon GO perché c'è l'alto rischio che venga bannato. Quindi noi vi sconsigliamo di utilizzare il vostro account personale ma di utilizzare un account tanto così per gioco. Allora, per prima cosa dovrete scaricare un programma e l'applicazione attraverso dei link che vi forniamo ovviamente qui sotto in descrizione. Li mettiamo qui sotto, ci sarà scritto download applicazione e download programma. Una volta fatto andate sul vostro iPhone e disinstallate il vostro gioco Pokémon GO. Questo perché questa applicazione sarà reinstallata con i crack aggiunto all'interno. Quindi l'applicazione reale che già abbiamo sul nostro iPhone e che troviamo su App Store non servirà più. Ma come iniziare? Allora, siamo qui sul nostro computer. Vi ricordo che questa procedura funziona sia per Mac sia per PC Windows. Una volta scaricato il programma che si chiama Impactor, avviatelo. Vi spunterà quindi Cydia Impactor. Tranquilli, non c'entra con il jailbreak. Dovrete lasciare le impostazioni esattamente come sono adesso ma andare nel file IPA che abbiamo scaricato di Pokémon GO e trascinarlo al suo interno. Ovviamente l'iPhone deve essere in questo momento collegato tramite ovviamente USB al nostro computer. Una volta qui, fidatevi, dovete inserire il vostro Apple ID, email e password. Adesso infatti io li inserisco. Una volta fatto basterà premere invio e partirà il programma. Qui ovviamente spunteranno delle diciture, di cui ovviamente non ve ne deve fregare nulla. E una volta finito sarà installata sul vostro iPhone l'applicazione. Vi avvisiamo ovviamente che potrebbe metterci anche qualche minuto. Una volta finito il processo di installazione, come potrete vedere sul mio iPhone, è apparsa l'app di Pokémon GO. Se noi proviamo ad avviarla, si avvierà, perché io ho già installato questa tipologia di applicazione. Ma per avere la conferma di attivazione bisognerà abilitare e autorizzare l'applicazione. Come si fa? Andando su impostazioni, generali e qui su profilo. Una volta regatovi su profilo ci sarà la dicitura autorizza. E autorizzerete ovviamente l'applicazione. Ma avviamo subito l'applicazione. Si avvierà normalmente come una classica applicazione di Pokémon GO. Quindi consentiamo i dati, qui ovviamente diciamo di no, e si aprirà ovviamente la pubblicità. Quindi chiudete la pubblicità e continuate il vostro settaggio. Mettete ovviamente la vostra reale data di nascita, premendo conferma e accedete col vostro account. Consentite le notifiche e finalmente potrete accedere al vostro Pokémon GO. Questo è un account fake che io ho creato perché non utilizzerei mai sul mio account ufficiale o una crack del genere. Ma allora come funziona? Allora abbiamo una M qui in alto che se premuta ci dà una lista di cose. Intanto per abilitare ovviamente tutte le impostazioni dovremmo andare su impostazioni e abilitare il fake location. Il fake location è praticamente la localizzazione falsa che ci permette, premendo di nuovo M, di spostarci all'interno della mappa tramite il joystick. Oppure tramite la mappa stessa, oppure scegliamo, non so, canalicchio. Facciamo Walk Air e il nostro personaggio camminerà fino a lì. Questo cosa comporta? Che le uova si schiuderanno. Ovviamente se manteniamo la velocità per uno. Se invece noi modifichiamo la velocità invece di per uno, facciamo per due, per quattro o per otto, arriverà velocemente al punto ma le uova non si schiuderanno. Questa è davvero una cosa molto vantaggiosa. Ma altra cosa. Quando vediamo dei Pokémon qui sotto in basso a destra negli avvistamenti, come facciamo a trovarli? In questo caso ad esempio c'è apparso qui. Tappando sul lato destro dove c'è quel pallino troveremo ad esempio il Pokémon che adesso c'è apparso. In questo caso è Golbat. E ovviamente premendolo, cioè premendo ovviamente nel display, potremmo catturarlo. Ci dice anche attacco, difesa e stamina. Non ci dice in questo caso quanto il Pokémon sia forte, perché ovviamente forse è il primo Pokémon che catturo con questo account. Ma proviamo ovviamente a catturare questo Pokémon. Non sono molto bravo a lanciare le Pokémon, non è vero lo sono, ma mi ha scivolato il dito. Proviamo a vedere se lo riusciamo a catturare. Ed eccoci qui, catturato il nostro primo Pokémon, qui ovviamente in diretta con voi. E vi stavo dicendo, quando noi abbiamo negli avvistamenti un Pokémon, nelle vicinanze, ma anche girovagando con il joystick, eccetera, non riusciamo a trovarlo, ci basterà, intanto siamo saliti a livello 2, ci basterà premere questa bandierina a sinistra che troviamo. Una volta premuta la bandierina, il nostro personaggio girerà in cerca di tutti i Pokémon che ci sono nelle vicinanze, ovvero farà una sorta di cerchio ed esplorerà la zona. Molto, ma molto interessante. Possiamo anche decidere di cambiare sia la corsa che sia a piedi camminando, e ovviamente settare le varie impostazioni, eccetera. Come potete vedere qui, ad esempio, c'è un Pokémon che è appena apparso. Nella mappa ci appariranno dei Pokémon che noi potremmo andare a scovare. Quindi se noi facciamo Walker e andiamo direttamente lì, ovviamente aumentando la velocità, ci porterà nel luogo prestabilito e ci farà trovare quel Pokémon. Non ci sono modifiche ai Pokéstop, sono tutte cose normali, la cattura dei Pokémon deve comunque avvenire tramite la vostra bravura, e anche in base agli oggetti che trovate. Ecco qui, ci ha portati all'interno del posto dove noi dovevamo trovare il Pokémon, premendo sul pallino che abbiamo visto a destra, ci porterà sul nostro Pokémon prestabilito. Blocchiamo ovviamente il tutto e vi faccio vedere un'altra funzionalità davvero stupenda, ovvero il Cerca. Qui abbiamo trovato il nostro Sparrow e lui ci porterà ovviamente nel nostro Sparrow, ma se noi utilizziamo i filtri, possiamo far settare all'applicazione tutti i Pokémon da poterci far visualizzare quelli no all'interno della mappa. Vi faccio un esempio. Onyx io voglio che venga visualizzato all'interno della mappa quando viaggio. Gengar sì, Hunter sì, Ghastly no ad esempio, Cloyster e Shielder sì. Quindi Ghastly sarà l'unico che nella mappa io non vedrò mai, mentre gli altri Pokémon sì, questo è buono se state cercando dei Pokémon da far evolvere per quella tipologia e questo sarà molto utile. Io ragazzi come al solito vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi, commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con Mirko per Apple Zane. Ciao! Intanto io ovviamente vi annuncio che Apple Zane come ogni anno trasmetterà in diretta, live streaming interamente in lingua italiana, con video ragazzi e non live vlog di immagini, per chi ci conosce ovviamente già lo sa, per chi non ci conosce lascerò tutte le info qui sotto in descrizione dalle ore 18 e 15 di giorno 7 settembre.